Via libera della Commissione europea a 4 miliardi di euro di aiuti dello Stato francese ad Air France per ricapitalizzare la compagnia aerea colpita dalla pandemia e dal crollo del traffico passeggeri. Il sostegno pubblico ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margaret Vestager sarà soggetto a condizioni che puntano a garantire una remunerazione sufficiente per lo Stato francese ma anche misure per limitare le distorsioni della concorrenza. In particolare Air France si impegna a mettere a disposizione slot disponibili dell'aeroporto di Orly. Queste misure daranno ai vettori concorrenti la possibilità di espandere le proprie attività in quest'aeroporto garantendo prezzi equi e maggiore scelta per i consumatori europei. Non tutti hanno gradito all'interno di Air France soprattutto quando Bruxelles chiedeva di cedere 24 slot pari al 7% del totale. Questa cifra è stata rivista a ribasso mentre è stata accolta la richiesta della compagnia di bandiera francese di alzare qualche barriera per limitare la razzia delle compagnie low cost. Air France non è la sola compagnia europea costretta a un compromesso con la Commissione. La stessa richiesta era stata fatta all'olandese KLM e alla tedesca Lufthansa.